Saranno gli accertamenti dello Spisal e dei carabinieri a permettere di stabilire come siano andate le cose all'interno dell'azienda e a chiarire se ci siano eventuali responsabilità. Il bilancio di un incidente all'interno di un'azienda che si occupa di pressofusione a Brendola e di tre operai feriti, nessuno dei quali fortunatamente sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione della dinamica ancora al vaglio degli inquirenti, si sarebbe verificata una fuoriuscita di materiale che avrebbe costretto gli operai a ricorrere alle cure mediche.